Come ti devo chiamare? Reiter? Zucker? Lubo? Quando ero soldato, i gendarmi avevano ammazzato mia moglie e si erano presi i miei figli. Sono scappato. Hai preso la sua identità. È una vittima di guerra. Una delle tante guerre idiote che rubano la vita. An der Hossens si erano presi i miei figli. Miniano rapidi. Io credo una buona erzietta. Lui è la buona erzietta. Che arrivate in albergo? Sei un signore, elegante, gentile, un bel uomo. Io non sono un mercantino. Sono uno zingaro. Basta che sei buono. Filippo, tu? Li ho cercati per anni. Dove sono? Come ti devo chiamare? Grazie. veso. Grazie.